Come Sace siamo qui ad Ecomondo, uno degli eventi sicuramente più interessanti in questo momento in ambito di transizione energetica, transizione ecologica. È un'ottima occasione oggi per incontrare i nostri clienti, le piccole e medie imprese italiane che già serviamo e supportiamo e anche farci conoscere da tutte quelle imprese che dovranno affrontare questo importante percorso di sostenibilità e fargli conoscere quelli che sono gli strumenti che Sace può mettere in campo per affrontare in maniera strutturata questo percorso di transizione energetica ed ecologica. Con la Push Strategy creiamo opportunità di business fra le PMI e grandi buyer internazionali. Quest'anno lo facciamo con Braskem, buyer brasiliano di primario standing. Con gli incontri di business matching, Sace rinnova il suo impegno nel creare connessione e sinergia fra le PMI e i mercati esteri. Con le nostre garanzie green finanziamo progetti sostenibili nel mercato domestico con l'obiettivo di agevolare il passaggio verso l'economia a minore impatto ambientale. e ho il piacere di introdurare a te signor Tiago Ferreira di Braskem, uno dei nostri clienti topi internazionali dentro di Push Strategy Scheme. Tiago, potete descrivere a te attività di trade fair e qual è l'attività di tua visita qui? Sì, grazie a tutti per l'opportunità di essere qui, grazie a Sace. È stato un piacere di sviluppare il mercato qui, il mercato. Il mercato è davvero grande e Sace è una company strategica di Braskem. Grazie a tutti per l'opportunità di nuovo. Grazie a tutti.